Stamane la cooperativa sociale Tercop che da anni gestisce il servizio delle strisce blu nella città di Teramo ha intrapreso una nuova mobilitazione dinanzi al municipio. Un presidio per protestare contro la decisione del comune o meglio detta della cooperativa decisione presa da parte dei dirigenti che hanno stabilito che il 14 giugno sarà l'ultimo giorno utile di lavoro per la Tercop perché dal 15 giugno se non ci saranno sviluppi immediati le strisce blu torneranno bianche fino alla pubblicazione del nuovo bando. La Tercop sta chiudendo e 29 persone stanno perdendo il lavoro non per la crisi economica oppure perché un'impresa delocalizza semplicemente perché una politica non all'altezza in 7 anni non sono riusciti a organizzare una gara d'appalto e gli stessi dirigenti che in 7 anni non sono riusciti nemmeno a sospendere un servizio né a fare la gara ma sono riusciti benissimo a farci indebitare la cooperativa con provvedimenti vessatori e illegittimi a nostro parere oggi praticamente anziché fare una gara d'appalto come indicato da questa amministrazione hanno scelto di sospendere un servizio causando un danno di circa 200.000 euro al comune di Teramo è una cooperativa che chiuderà e 29 persone a spasso. A cosa serve tutta questa storia? Praticamente semplicemente a far uscire questa cooperativa sociale dal mercato dei parcheggi perché con le sue proposte sempre vantaggiose per interesse pubblico impedisce evidentemente questa è la nostra tesi a cui chiediamo praticamente alla procura della Repubblica di indagare perché a questo punto gli esposti li facciamo noi quindi gli unici che potranno guadagnare da questa storia saranno i nostri concorrenti che finalmente potranno ricavare buoni utili da una gestione meccanizzata dei parcheggi cosa che noi abbiamo proposto pure come gestione meccanizzata dei parchometri però mentre la Tercop proponeva di destinare tutti gli utili, futuri utili a vantaggio dell'amministrazione comunale quindi recuperando pure i posti di lavoro invece scomparsa la Tercop questa proposta non la farà più nessuno arriverà l'amico imprenditore che finalmente potrà fare qualche utile alla gestione dei parcheggi Teramani